Si rimane con questo elastico più 9 più 7 Gentile riesce a deludere la pressione dei giocatori della Dinamo Vediamo se arriva il pallo oppure se Sassari decide di difendere Gentile palla in mano contro Tyson Non fanno pallo i giocatori di Sassari, doppio ferro per Alessandro Gentile E poi il rimbalzo conquistato da David Moss Dunque si va a gara 7 tra 48 ore al Forum Si deciderà questa splendida semifinale I fischi ovviamente del Palazzo